Si chiama Amazing Grace Gospel Choir ed è un coro, come dice la parola stessa, o se preferite, un'iniziativa culturale che ha caratterizzato le festività natalizie a Cosenza. Uno spettacolo infatti che è andato in scena al Teatro Rendano e che prende spunto da Amazing Grace, che è il titolo di uno dei più antichi e popolari canti gospel della tradizione musicale afroamericana, ovvero un inno alla grazia concessa da Dio agli uomini liberi. Dunque uno spettacolo da un lato, ma come detto una vera e propria iniziativa culturale per la conoscenza, la promozione e la diffusione della tradizione del gospel in Italia. Amazing Grace infatti vuole essere un punto di riferimento per lo studio della cultura, dello stile e del repertorio gospel, che passa per la costituzione di questo coro gospel professionale. La direzione artistica di Amazing Grace Gospel Choir è affidata a Timothy Martin, tenore e performer afroamericano noto sulla scena nazionale ed internazionale e quella di Cosenza è stata certamente una tappa importante per un genere musicale che guadagna sempre più consensi. Grazie a tutti!